allora sono qua in solidox ho messo real view ok e quel video che ho fatto per la 2020 va bene anche per 2021 ok dunque andate a cercare via il view simone orio e trovate come fare a mettere la real view in più mi sembra abbastanza bello ho messo lo sfondo bianco semplice che mi sembra molto accattivante piuttosto delle ombre che mi creano un po problematiche naturalmente io ho una nidia quelli da gioco né semplicemente sono andato a modificare il reggidit la cosa che vorrei fare cioè il problema ecco che ha un problemino nel senso che io quando vado a fare la modifica ho messo le linee cioè lo schizzo quando è attivato è rosso quando vado qua diventa un rosso più scuro come si vede però se le linee sono un po non si riesce tanto a vedere perché per esempio adesso vabbè io so che quella la si vede un po ma si fa veramente fatica a vedere ecco solo che non sono ancora riuscito a trovare un modo per sarebbe top sarebbe riuscire a cambiare colore a questo modo uno ha subito l'impatto visivo perché tutto rosso o sono andato a togliere le ombre perché mi davano molto fastidio anche perché poi se metto qui comunque si confonde cioè andare lì adesso io so però non è facile dovrebbe essere un coso molto più attivo o addirittura andare a crearsi l'ombra lì dove vado a selezionare perché a questo punto uno capisce vabbè non è stato tanto utile però è questo dunque l'alternativa sarebbe di andarsi però a fare le linee di costruzione così uno non ha tutti questi problemi però se uno ha fretta non è che riesce vabbè spero di essere stato utile ci vediamo la prossima rivederci ciao